Musica Mister, domani arriva il Venezia, subito lo stato di forma psicofisico dei ragazzi, Beretta andrà a giocare con la Primavera, gli altri stanno tutti bene? Sì, stanno bene a livello di infortuni, chiaramente qualche giocatore un po' affaticato ce l'abbiamo, sono valutazioni che bisogna fare all'ultima ora però lo stato mentale della squadra in questo momento è un stato mentale importante, è una partita importantissima per noi perché è una partita che ci permette di mettere a posto definitivamente le cose dopo un periodo difficile che abbiamo superato bene però adesso è arrivata la partita più importante per noi che è sempre la terza della settimana e vogliamo tutti i costi vincere Come stanno in particolar modo Padoin, Troiano e Ardemagni che hanno più di 30 anni, che hanno giocato benissimo le ultime gare e che hanno speso tanto? Sono loro diciamo quelli un po' più da monitorare, è normale quando si tratta di ragazzi che sono sopra i 30 anni fare tre partite di fila in sette giorni a quei livelli è un po' problematico Fatto sta che però insomma sono giocatori che hanno dimostrato di essere per noi importantissimi per tanti motivi non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista proprio psicologico sono un po' le colonne trainanti di questa squadra e rinunciare a loro è sempre difficile però con queste partite ravvicinate chiaramente sono valutazioni che bisogna fare Con una vittoria e un parigi a Perugia ma con grande prestazione abbiamo riadrizzato un momento no Adesso come si conquista la felicità suprema nel senso vincendo ancora e dando continuità? Mettendo in campo lo stesso spirito, non abbassando mai la guardia e soprattutto fare tesoro di quello che è stato il nostro momento difficile dove abbassando la guardia abbiamo capito che siamo vulnerabili e quindi se siamo consapevoli di questo allora vuol dire che siamo cresciuti vuol dire che dal momento di difficoltà ne usciamo ancora più forti e domani per questo come ho detto prima è il nostro banco di prova poi il risultato è sempre una conseguenza di quello che si fa in campo però a livello di prestazione e a livello di spirito davanti al nostro pubblico non dobbiamo assolutamente steccare perché questa partita è veramente troppo importante Torna da Gruzzo, lo potremo vedere dal primo minuto e se ci sarà un'occasione di rilancio per Ninkovic che è stato tenuto in panchina a Perugia? Sono giocatori per noi che hanno un valore tecnico importantissimo, ci sono probabilità che giochino adesso chiaramente la formazione la darò domani, sto facendo queste valutazioni chiaro che sia Nicola che Alessio hanno già dimostrato che sanno entrambi farci vincere le partite stanno entrando anche in uno spirito di gruppo in maniera diversa rispetto magari all'inizio e quindi per noi saranno sicuramente i nostri diamanti da mettere in campo Poco fa ha parlato in conferenza stampa Dionisi, gli ha fatto i complimenti perché ha detto che è un tecnico che stima tantissimo siete tra i più giovani della Serie B, ha detto anche che loro hanno raccolto poco nelle ultime due partite perse e soprattutto loro di solito fuori casa rendono meglio una partita da prendere con le pinze perché il Venezia gioca bene a calcio Assolutamente, assolutamente, il mister lo conosco bene, abbiamo più o meno la stessa età, idee simili, insomma ci sentiamo è un allenatore molto bravo che ha anche un'ottima umiltà, è veramente un ragazzo che ha delle doti importanti e non è lì a caso il suo Venezia sta facendo un ottimo campionato e è vero che ha raccolto meno perché ha fatto due partite comunque importanti le prestazioni il Venezia le fa sempre anche perché hanno delle caratteristiche ben precise hanno tutti i giocatori di gamba, molto veloci, hanno un grande spirito, sono temibili nelle ripartenze e quindi noi dovremmo pareggiare prima di tutto questa cosa se noi andremo a pareggiare l'aspetto mentale, l'aspetto del ritmo io sono convinto che noi abbiamo tutte le qualità per far male al Venezia Grazie